La Tina, una bella partita a Civitanova e qui è stata quasi una partita a senso 1. Sì, Macerata ha messo i puntini sulle I in questa gara, ha alzato il livello di gioco in molti fondamentali e per noi è diventato veramente complicato starle dietro. C'è stata qualità tecnica diversa, noi oggi forse anche un po' meno tranquilli rispetto alla partita di giovedì. Ma non perché non ci fosse la voglia, la volontà, l'entusiasmo di fare bene, ma perché comunque ci si è resi conto che eravamo stati vicini a vincere a Macerata e oggi si sperava in una partita un po' diversa. Invece così non è stato, abbiamo visto subito grandi difficoltà già dei primi 2-7 e nel terzo diciamo che la squadra un po' ha perso qualche certezza. Adesso che cosa ci vuole per mettere i bastoni fra le ruote alla Lupe domenica? Adesso ci vuole quello che si fa solitamente nei play-off, cancellare queste due gare, ripartire con nuova linfa, nuovo entusiasmo. Abbiamo una settimana di tempo per preparare questa partita e vedere dove possiamo migliorare e come possiamo migliorare.